Le proposte verso le istituzioni sono, un sacco di colleghi chiedono l'albo, ma l'albo professionale non si può fare, tecnicamente è contrario alla direzione europea di deregulation, quindi un albo che difenda la categoria e non si trovi a difendere la comunità da un mestiere pericoloso, non si fa, quindi l'albo dei fotografi non si fa. La proposta nostra è, va bene, visto che non possiamo avere un albo, facciamo un registro, perché è questione di nomi, che la proposta è un database, che ci vuole un database online, che potrebbe gestire imparzialmente il MIBACT, dove confluiscono unicamente coloro i quali hanno posizione fiscale definita come attività, è consultabile da tutti e quindi chi si professa fotografo lo sia oppure no potrebbe discendere da questo. Grazie a tutti.